Mamma e papà hanno un nuovo bebè, non se ne fanno più niente di te. Iiii, come puoi dire una cosa simile? La maggior parte di noi ha fratelli o sorelle. I genitori amano tutti i figli allo stesso modo. Tio, vieni! Sì, smetti di essere triste. Abbiamo trovato una nuova casa così bella. Ah, avremmo dovuto tornare indietro e cercare Tio più a lungo. Chi lo sa, forse è ancora vivo. Lui e Cree erano abbastanza lantani dal vulcano. Mamma! Mamma! Ciao, siamo noi! Ci fu grande gioia quando i genitori poterono riabbracciare Tio. Solo Fa era un po' triste. Tio aveva ritrovato i suoi genitori, ma lei era tutta sola. La madre di Tio strinse fa tra le braccia e promise fin d'ora di occuparsi anche di lei. Anche Tio secondo era molto felice perché aveva trovato un nuovo amico. Mi insegno a volare? Non provarci, Cree! Più tardi quando farà buio, laggiù vicino a quella roccia. Ma pssh! Non parlare con nessuno! Promesso! Il tempo passerà, ma quel Cree non cambierà. Eee! 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 Grazie a tutti.